buongiorno ragazzi oggi parliamo della raccolta ovvero del libro lirico di francesco petrarca rerum vulgarium fragmenta quello che è passato alla tradizione con il nome di canzoniere di francesco petrarca petrarca può essere considerato il fondatore della lirica moderna il suo libro chiamato appunto rerum vulgarium fragmenta dallo stesso autore canzoniere nelle edizioni successive al 1470 contiene tutti i caratteri della poesia lirica di quella poesia lirica che si è poi è fermata nei secoli successivi non solo in italia ma proprio nell'intera europa e che a tutt'oggi noi ritroviamo qual è stato il grande merito di francesco petrarca quello di aver saputo rispondere con prontezza e con rapidità alle trasformazioni che sono intervenute nel suo tempo vale a dire nel 300 trasformazioni che riguardavano il ruolo dell'intellettuale e il ruolo dell'arte petrarca infatti ha assunto in sé la crisi dell'intellettuale e in qualche modo ha rilanciato proponendo una nuova funzione dell'intellettuale che fosse più adeguata alle trasformazioni che erano in corso nel suo tempo la proposta che ha avanzato petrarca in qualche modo il suo modello lirico però non nasce dal nulla ma si inserisce all'interno di un solco del solco della tradizione lirica italiana che parte dalla poesia lirica cortese e attraverso i siciliani arriva allo stil nuovo però rispetto alla tradizione rispetto al solco della tradizione in cui petrarca si è inserito va detto che l'autore segna compie una vera e propria svolta netta rompendo anche con i precedenti più immediati come quelli appunto dello stil nuovo possiamo dire che francesco petrarca ha introdotto delle novità all'interno del genere lirico della poesia europea non solo nell'ambito strettamente diciamo stilistico e formale ma anche sul piano psicologico e ideologico sul piano contenutistico dopo petrarca la poesia non è più stata uguale ora quando parliamo del canzoniere di petrarca noi parliamo appunto del primo libro lirico della tradizione poetica italiana che abbia carattere unitario e organico cosa intendiamo con questa definizione innanzitutto noi lo definiamo libro lirico la scelta di chiamarlo libro e non raccolta deve essere legata proprio al suo carattere di unitarietà e di organicità in esso all'interno cioè del canzoniere il l'ordine e la disposizione acquistano un'importanza enorme fini petrarca da grandissimo valore alla struttura complessiva e unitaria della sua opera e questa valorizzazione della struttura sarà una caratteristica che accomunerà tutti i canzonieri ovvero tutti i libri lirici di epoca successiva abbiamo detto che a carattere unitario e organico quando diciamo che a carattere unitario noi ci riferiamo al fatto che sin dall'età giovanile petrarca è stato animato proprio dalla volontà di organizzare la propria produzione poetica secondo uno sviluppo che fosse diacronico ovvero si è proposto di raccontare una storia attraverso cui poter recuperare il senso profondo della propria esistenza una storia che abbia dunque carattere unitario ma che abbia anche carattere organico l'organizzazione delle liriche infatti segue il principio della sistematicità e della coerenza ogni lirica intese delle relazioni con le liriche precedenti e con le liriche successive ma mantiene sempre la propria autonomia la propria autonomia che al contempo contenutistica e stilistica a questo scopo le liriche vengono continuamente sottoposte ad un laborlime ad un lavoro di lima e ad un lavoro di continua risistemazione e di riordinamento nel progetto complessivo del canzoniere come peraltro testimoniano gli autografi petrarcheschi sia nelle glosse sia nelle postile che vengono scritte a latere ora quando parliamo dell'opera di petrarca dobbiamo cominciare la nostra trattazione a partire da considerazioni relative appunto al titolo e questo soprattutto in considerazione del fatto che il titolo canzoniere risale solo al 1510 nell'edizione bolognese che è uscita presso l'editore griffo ma non ha alcuna attestazione precedente petrarca infatti aveva scelto un altro titolo per la propria opera nel dettaglio aveva scelto il seguente titolo francisci petrarca laureati poete rerum vulgarium fragmenta abbreviato nella forma rerum vulgarium fragmenta vi faccio notare la mona tongazione del dittongo ae proprio appunto della desinenza del genitivo singolare tipico delle grafie medievali bene questo titolo in realtà aveva due caratteristiche fondamentali la prima caratteristica era quella di insistere sulla laurea poetica per petrarca infatti il riferimento alla laurea poetica era un riferimento tutt'altro che cursorio era un riferimento fondamentale che in qualche modo costituiva un tratto distintivo della sua identità di poeta infatti l'abbiamo già detto la laurea era un riconoscimento poetico molto importante che non veniva conferito come accade oggi a tutti coloro che avessero completato il proprio cursus studiorum ma era un riconoscimento che veniva conferito solo a coloro che in questo cursus studiorum avevano manifestato una singolare capacità avevano manifestato una eccellenza in qualche modo possiamo associare il concetto di laurea poetica dell'epoca petrarca al concetto moderno di premio nobel bene per petrarca il fatto di aver conseguito la laurea poetica era tutt'altro che irrilevante rappresentava in qualche modo il riconoscimento ufficiale della propria eccellenza in ambito poetico il secondo aspetto che emerge da questo titolo e l'attenzione ovvero la sottolineatura del cosiddetto frammentismo ovvero il fatto che si ponesse l'accento sulla frammentarietà delle opere e dei testi ivi raccolti quando si parla di frammentarietà si fa riferimento all'intenzione petrarchesca di presentare l'opera come ricomposizione di frammenti isolati e sparsi della sua coscienza le liriche costituiscono proprio l'espressione maturata in forma artistica di questi frammenti sparsi della coscienza in altri termini ogni lirica viene a costituire un frammento della storia dell'anima di petrarca un momento isolato dagli altri ma legato agli altri da catene di eventi sia biografici sia psichici ogni lirica ha catturato in qualche modo un frammento spezzato di questa vicenda biografica e psichica esattamente costituendo qualcosa di molto affine alle cosiddette tessere del mosaico infatti quando si parla di frammentismo di frammentarietà a proposito del canzoniere di petrarca si deve necessariamente far riferimento al concetto di mosaicismo dell'anima a differenza di un puzzle in cui il disegno finale preesiste alla composizione delle tessere e le tessere nel puzzle hanno una locazione specifica non sono intercambiabili ai fini della composizione del disegno finale nel mosaico invece le tessere preesistono al disegno finale e possono essere composte ricomposte combinate ricombinate un'infinità di volte per produrre un'infinità di disegni diversi e così ogni lirica va a costituire una tessera di questo mosaico lirico può essere spostata rivista rimodulata in funzione di quello che è l'obiettivo finale e l'obiettivo finale è quello di rendere la misura proprio del mosaicismo dell'anima abbiamo detto che a partire dal 1510 da questa edizione bolognese per i tipi dell'agrifo comincia a diffondersi un nuovo titolo per l'opera di petrarca vale a dire il titolo canzoniere che poi è diventato di fatto il titolo prevalente titolo prevalente per diverse motivazioni intanto è stato è diventato il titolo prevalente in ragione del fatto che era più breve essendo più breve del titolo proposto da petrarca era più immediatamente e più facilmente individuabile in secondo luogo era titolo prevalente diventato titolo prevalente preferito perché più che sul frammentismo sulla frammentarietà degli elementi poneva l'accento sulla unitarietà della concezione in ragione proprio di questo carattere di unitarietà questa raccolta assunse la definizione di canzoniere perché il canzoniere nel medioevo indicava un testo che veniva per lo più assemblato da copisti oppure da emanuensi ma che riuniva testi anche di autori diversi selezionati proprio in ragione dei loro caratteri di affinità e più tardi è passato a definire le raccolte di testi di un solo autore anche composta in tempi diversi ma che fossero accomunate da un carattere unitario ed organico proprio dunque per questo carattere di unitarietà che definisce la categoria del canzoniere il nome canzoniere diventa il nome preferito ma c'è un terzo elemento che concorre a far sì che il nome canzoniere diventi il privilegiato ovvero la cosiddetta coerenza linguistica il titolo canzoniere è infatti in lingua volgare aveva il pregio cioè di essere nella stessa lingua delle liriche in esso contenute il titolo in latino invece se è vero che confermava il sostanziale bilinguismo di Petrarca nonché la particolare dimestichezza che Petrarca aveva con il latino e con la produzione lirica in latino perché non bisogna dimenticare che i fragmenta di cui parla Petrarca sono molto affini alle nuge di Catullo da un altro lato però suscitava un certo disagio nei lettori c'era un'incoerenza tra un titolo in latino e una raccolta che era concepita appunto in lingua volgare resta comunque ed è inequivocabile il fatto che Petrarca avesse scelto un altro titolo per la propria opera e che questa considerazione ha indotto molti critici a mettere in discussione la legittimità del titolo canzoniere addirittura hanno finito col reputarlo con ritenerlo un vero e proprio falso storico a tutt'oggi il canzoniere Petrarchesco resta il capostipite dei canzonieri moderni veniamo adesso ai tempi e ai modi della composizione le liriche contenute nel canzoniere abbracciano l'intera vita di Petrarca sappiamo che Petrarca aveva scritto liriche sin dai tempi dell'apprendistato bolognese ovvero sin dai tempi degli studi ma esse non ci sono pervenute sono andate perdute fu solo a partire dagli anni 30 che Petrarca cominciò effettivamente a raccogliere e a divulgare le proprie liriche e lo stesso Petrarca non ha mai fatto riferimento ad una produzione lirica che fosse anteriore al 6 aprile 1327 volendo far in questo modo coincidere la vocazione lirica con l'amore e con la passione per Laura del canzoniere caso più unico che raro nella storia della letteratura ci sono pervenuti due codici manoscritti un primo codice manoscritto che è noto con il nome di codice vaticano latino 3195 che contiene la versione definitiva del canzoniere quella sulla quale Petrarca gli è appunto il suo placet quella che riordinò per ultima lo stesso Petrarca e una seconda un secondo codice manoscritto noto col nome di codice vaticano latino 3196 altrimenti chiamato appunto codice degli abbozzi che contiene invece 54 liriche del canzoniere e attraverso questo è forse il codice più interessante che noi possiamo esaminare che noi possiamo valutare perché attraverso questo codice noi entriamo fisicamente nel laboratorio di Petrarca avendo modo di leggere le prime stesure di questi 54 componimenti le nuove trascrizioni quindi i cambiamenti che venne ad apportare in funzione di diverse considerazioni avendo modo di individuare le modifiche le correzioni le cosiddette varianti testuali e avendo modo anche di cogliere quali erano le ragioni che facevano sì che Petrarca ne preferisse una anziché un'altra avendo modo di leggere le glosse le postille e le annotazioni in latino che erano per lo più scritte a latere ora le varie e il canzoniere nel corso del tempo ha subito diversi cambiamenti perché Petrarca è stato impegnato per tutta la vita nel tentativo di riuscire in qualche modo a riordinare le liriche in un ordine che a suo dire fosse strutturato e organico e questa opera di spostamento di cambiamento è un'opera che lo ha accompagnato per tutta la vita al punto tale che il canzoniere rerum vulgarum fragmento è stato pubblicato in diverse forme prima di pervenire alla forma ultima che noi conosciamo e che è appunto riconducibile al codice vaticano latino 3195 uno studioso americano wilkins ha ricostruito le diverse tappe evolutive del canzoniere e oggi con le correzioni apportate da altri due studiosi francisco rico e marco sant'agata siamo in grado di riconoscere le nove forme principali del canzoniere nel quarantennio di fatto che è stato interessato dalla produzione lirica di petrarca si tratta di forme successive che testimoniano la natura permanentemente in fieri di work in progress del libro pur però mantenendo sempre come data spartiacque la data del 1348 ad è proprio a proposito di questa data veniamo dunque a quella che la struttura del canzoniere il canzoniere si compone complessivamente di 366 componimenti di questi 366 componimenti 317 sono sonetti 29 sono canzoni 9 sono le sestine 7 le ballate e 4 i madrigali ora i componimenti non hanno un titolo ma sono indicati con una numerazione progressiva spesso indicata appunto con caratteri romani da 1 a 366 oppure vengono indicati dalla citazione del primo verso della lirica va subito chiarito che ogni componimento del rerum vulgarum fragmenta è caratterizzato dall'essere contemporaneamente espressione autonoma di una micro storia quindi è caratterizzato dal fatto di essere un micro testo ma allo stesso tempo è caratterizzato dal fatto di essere parte di una macro storia quindi parte elemento di un macro testo in altri termini pur godendo di autonomia poetica sul piano dei contenuti come sul piano delle forme ogni testo è legato ai precedenti e a successivi da una fitta rete di relazione che si sviluppano in diversi modi si possono sviluppare attraverso i rimandi lessicali attraverso i rimandi iconici oppure quelli simbolici comunque in alcuni casi queste relazioni risultano veramente molto evidenti si può fare riferimento al riguardo per esempio al ciclo dei sonetti avignonesi 136 138 oppure si può fare riferimento al ciclo appunto delle canzoni degli occhi in altri casi più spesso invece questi riferimenti queste relazioni reciproche sono meno evidenti e sono di più difficile ricostruzione quello che sappiamo appunto è che in generale non esistono grosse e grossolanamente riconoscibili geometrie interne che possiamo considerare appariscenti tradizionalmente però il canzoniere può essere suddiviso in due parti e questa suddivisione risale ad una scelta dello stesso petrarca la struttura dunque del canzoniere tradizionalmente è considerata bipartita una prima parte che è quella che include i son i componimenti dall 1 al 263 è nota con la denominazione di rime in vita di madonna laura e una seconda parte quella che va da la canzone 264 la canzone 366 nota con la denominazione di sezione delle rime in morte di madonna laura ora questa suddivisione bipartita fu voluta dallo stesso petrarca che segnò nel codice vaticano latino 3195 vero nel codice degli abbozzi scusate nel codice da cui deriva l'edizio princeps segnò appunto la separazione con l'introduzione di un foglio bianco inoltre la prima lettera del sonetto proemiale voi che ascoltate rime sparse il suono come anche quello della canzone 264 che dà avvio alla seconda parte appunto del canzoniere sono le prime lettere sono entrambe più grandi e sono riccamente decorate proprio per sottolineare che la anche la canzone 264 doveva dar corso ad un nuovo inizio ad un nuovo principio quindi che era la canzone da cui aveva esordio la seconda sezione del canzoniere ad ulteriore conferma petrarca dichiarò esplicitamente l'intenzione di strutturare in questo modo la raccolta e lo scrisse in una lettera a pandolfo malatesta nel 1373 ora va chiarito che le ragioni che indussero petrarca a fare questa scelta sono ragioni legate appunto all'importanza che viene a rifestire la canzone 264 agli amanti delle simmetrie infatti questo sbilanciamento a favore della prima parte ha destato non poche perplessità soprattutto se combinato ad un'altra considerazione ovvero al fatto che nella canzone 264 che la canzone ivo pensando laura è ancora in vita come si può iniziare una sezione in morte di madonna laura con laura che è ancora in vita la morte di laura viene annunciata solo nel sonetto 267 e il planctus vero e proprio per la morte di laura è rimandato alla canzone 268 ora questo aspetto è spiegabile con il fatto che petrarca non voleva far coincidere la propria crisi morale con un avvenimento esterno per quanto importante decisivo come la morte di laura volle modulare il passaggio con maggiore sottigliezza la canzone infatti rende esplicita la fortissima e irrisolta attenzione conoscitiva e morale che si è andata via via formando nella coscienza di petrarca in questo senso la morte di laura diventa verifica della verità della crisi trionfo doloroso del principio di realtà nel segno di quanto dice lo stesso petrarca nel sonetto premiale cioè che ciò che piace al mondo è breve sogno l'amore per laura diventa un segno inequivocabile della vanità umana che conduce a destinare un amore cieco ed esclusivo ad una creatura che però è mortale che sta già anzi andando incontro alla propria morte l'atteggiamento introspettivo e autocritico di questa canzone denuncia la vanità disgregante e l'immoralità della passione in atto non di un fantasma del passato questo testo insieme al secretum è il testo che meglio esprime quella mutatio animi che avrebbe chiamato petrarca ad un radicale cambiamento di rotta un cambiamento di rotta che però di fatto non si è mai realizzato ora come stavamo dicendo in realtà ci sono altri modi di leggere il canzoniere per esempio il fatto che il canzoniere sia costituito da 366 componimenti potrebbe far pensare che il numero complessivo dei componimenti venga a corrispondere con il numero dei giorni di un anno bisestile forse lo stesso 1348 che era appunto un anno bisestile oppure che venisse a coincidere con il numero dei giorni di un anno cui si aggiungeva uno che era rappresentato appunto dal sonetto proemiale in questo senso l'anno scandito dai 366 componimenti verrebbe in qualche modo a sintetizzare il senso di una vita intera dall'errore giovanile si passerebbe al pentimento e poi alla consapevolezza della maturità questa interpretazione consentirebbe di individuare tra l'altro sorprendenti corrispondenze interne se si colloca infatti il sonetto proemiale il 6 aprile cioè il giorno dell'incontro con Laura che peraltro era anche un venerdì santo la canzone 264 che è quella che dà apertura alla seconda sezione del canzoniere verrebbe a coincidere con il 25 dicembre e l'ultima canzone lino alla vergine di nuovo con il 6 aprile si verrebbe realizzare una sorta di cadenza quasi liturgica che rende questo testo una sorta di breviario ovvero un libro di preghiere però di natura laica ora lì l'innamoramento come abbiamo detto di Laura è avvenuto il 6 aprile del 1327 come abbiamo detto questo era il giorno del venerdì santo in cui si celebrava la passione di Cristo era il momento simbolico di caduta e di colpa dell'umanità il momento cioè di allontanamento dalla via della salvezza Petracca volle far coincidere il giorno dell'innamoramento per Laura con il momento di crisi di tutta l'umanità in altri termini una vicenda individuale diventa universale proprio in ragione di quella che era la scelta del giorno in cui farla accadere e probabilmente questa scelta del giorno ha altissimo valore simbolico ma è anche strettamente legata allo smarrimento di Dante nella commedia che ha inizio proprio nel venerdì santo del 1300 ora così facendo però la canzone 264 con cui ha inizio la seconda sezione del canzoniere come abbiamo detto viene a coincidere con il 25 dicembre che è il giorno di Natale se la nascita dell'amore è dunque concomitante alla morte di Cristo e per questo si presenta come errore e deviazione la seconda sezione con la morte della donna e premessa indispensabile al ravvedimento finale viene inaugurata nel giorno della nascita di Cristo a ulteriore conferma secondo una tradizione che era largamente diffusa all'epoca di Petrarca l'autore contava gli anni a nativitate ovvero della nascita di Gesù non a partire dal capodanno ma a partire dal 25 dicembre così la seconda parte diventa un nuovo inizio inizio del nuovo anno ma anche inizio di una nuova vita proprio a sottolineare l'implicita novità esistenziale e morale conferita dalla mutazio animi un ulteriore elemento di attenzione merita il significato simbolico del numero 6 nella successione infatti delle date che hanno per protagonista Laura si nota sin da subito una certa ricorrenza del numero 6 e il numero 6 figura anche come cifra prevalente nel canzoniere se si considera che i componimenti complessivi sono proprio 366 bene questa ricorrenza del numero 6 che è riscontrabile anche all'interno però del canzoniere fa sì che 6 diventi il numero di Laura esattamente come 9 era stato il numero di Beatrice ora un'ultima considerazione merita il fatto che se noi interpretiamo appunto il canzoniere come una sorta come dire di percorso esistenziale che va dalla caduta nel peccato a quella che è la consapevolezza e quindi la redenzione noi lo interpretiamo in realtà male perché se detto così il canzoniere sembrerebbe descrivere una traiettoria ad andamento rettilineo e ascensionale e che necessariamente renderebbe necessario in qualche modo un processo progressivo di elevazione dalle passioni terrene per arrivare ad una finale pacificazione interiore però così non è perché in realtà il movimento che viene descritto nel canzoniere non ha andamento rettilineo ma curvilineo e il movimento che viene descritto nel canzoniere non ha ritmo ascensionale ma sinusoidale il soggetto lirico continua infatti a sentirsi attratto dai beni terreni fino alla fine non riesce a conseguire l'obiettivo finale di purificarsi e l'unica strada che infine trova è quello di affidarsi alla vergine nella canzone finale si affida alla vergine perché la vergine possa intercedere per lui ora veniamo a definire quali sono i temi del canzoniere quali sono i contenuti del canzoniere perché le 366 poesie del canzoniere possono essere lette come un diario o come un'autobiografia però solo ad una condizione cioè alla condizione di ricordarsi che uno, Laura non è Beatrice Laura è molto di più perché non è semplicemente una donna e non è semplicemente un simbolo Laura è contemporaneamente una donna dotata di una propria personalità di propri tratti distintivi ma è anche un segnal cioè è un simbolo che rimanda a qualcosa di diverso due il racconto presente nel canzoniere non è un resoconto fedele e oggettivo ma è un tentativo di ricostruire unitarietà alla coscienza cioè di restituire una forma unitaria alla coscienza come? attraverso la ricomposizione soggettiva di frammenti autonomi 3. nel canzoniere non c'è solo il tema dell'amore per Laura ci sono diversi temi che sono diversamente distribuiti e che prendono in considerazione diversi aspetti che in qualche modo si esprimono l'animo di Petrarca quali sono questi temi presenti nel canzoniere? intanto l'io lirico e la scoperta della coscienza che forse è la più grande novità di Petrarca in secondo luogo l'amore che presenta tratti simili ma anche differenti rispetto a quello della poesia d'amore precedente Laura Laura che come vedremo è contemporaneamente donna e segnala il tempo, la memoria, la morte una riflessione che abbraccia tempo, memoria e morte e che in qualche modo abbraccia l'intera storia della letteratura e della filosofia su questi temi e infine appunto la politica e andiamo adesso ad esaminare ciascuno di questi contenuti di cui abbiamo parlato il primo contenuto è relativo all'io lirico ovvero alla scoperta della coscienza nel canzoniere i temi vengono trattati tutti e vengono rielaborati e rinnovati alla luce della vicenda interiore del poeta l'io lirico è diventato nel canzoniere contemporaneamente soggetto e oggetto dell'indagine poetica peraltro questo aspetto si evince chiaramente anche dal titolo che Petrarca ha assegnato alla raccolta l'idea infatti di raccogliere di comporre i frammenti sparsi della propria anima ha proprio l'obiettivo di produrre un quadro armonico della sua vicenda esistenziale e infatti si tratta proprio di un laboratorio esistenziale come vedete scritto un laboratorio che restituisce senso alla vita passata attraverso l'uso di determinati strumenti andiamo a vedere quali sono questi strumenti che hanno la funzione di consentire all'indagine di pervenire ad un risultato tanto per cominciare il primo strumento è lo strumento della ricerca quello della memoria e quello della scrittura lo strumento infatti e la pratica della scrittura diventa una strategia per unificare e razionalizzare il processo di ricomposizione dell'identità travagliata del poeta alla morte di Laura il poeta ricerca nella propria memoria quei passaggi, quelle fasi quei momenti principali della propria esperienza esistenziale e lo fa in modo soggettivo cioè senza aspirare a forme di oggettivizzazione allora l'obiettivo è sicuramente quello di ricomporre i frammenti sparsi della propria anima ma per ricomporli è necessario avviare una operazione di ricerca una ricerca che si sviluppa principalmente nell'ambito della memoria e che ha l'obiettivo di fissare attraverso la scrittura questi frammenti in una forma che possa essere unitaria e dotata di significato questa ricerca confluisce in una vera e propria biografia esistenziale che però non ha la pretesa di riproporre in maniera oggettiva e in maniera in qualche modo contestualizzata le varie fasi, i vari passaggi della vita del poeta ha più che altro l'obiettivo di rappresentare in modo soggettivo l'esperienza esistenziale del poeta attraverso la scrittura poetica il Petrarca riproduce una biografia esistenziale soggettiva in cui la ricerca del senso acquista al contempo valore salvifico ma anche valore assolutorio di assoluzione la ricerca del senso di questa vita ha un significato di salvezza ma anche un significato di assoluzione questa preponderanza dell'elemento soggettivo costituisce sicuramente uno dei tratti più spiccatamente moderni di Petrarca nonché uno degli aspetti che sarebbero stati maggiormente imitati dai suoi epigoni tuttavia la vera grande scoperta del canzoniere è quella della coscienza che consente a Petrarca di rilanciare la funzione della poesia al di fuori di quelle che sono le esperienze sociali e delle trasformazioni politiche in atto nella società del suo tempo alla rappresentazione corale dell'universo sociale che aveva avuto luogo nella Divina Commedia si sostituisce adesso una rappresentazione completamente diversa la rappresentazione dell'interiorità del soggetto della sua coscienza il dominio della coscienza diventa il nuovo territorio di ricerca di indagine il nuovo campo di indagine del canzoniere e adesso si addice la categoria della complessità se non quella molto più moderna della contradditorietà infatti è inedito il conflitto che viene messo in scena da Petrarca tra amore e morale l'amore acquista i tratti del desiderio carnale e dimidia divide il soggetto genera nel soggetto un conflitto tra la pulsione erotica e la fedeltà ai riferimenti morali entrano così in gioco delle categorie moderne che non erano concepite di fatto nell'epoca medievale la categoria della trasgressione morale così come la categoria così come la categoria del peccato con il canzoniere si assiste al crollo dell'integrità dell'uomo interiore su cui si costruiva tanto l'uomo classico come quello cristiano medievale convivendo nella medesima coscienza interessi e intenzioni opposte e divergenti senza alcuna possibilità di prevalenza dell'uno sull'altro si apre la strada al tema moderno della molteplicità il tema della molteplicità non implica il superamento delle contraddizioni interne ma implica la loro persistenza non si punta con la molteplicità alla soluzione dei conflitti ma alla comprensione della problematicità che è alla base dei conflitti un secondo tema che viene abbondantemente discusso nel canzoniere e che anzi è centrale nel canzoniere è proprio il tema dell'amore l'amore per la donna si trattava però di un tema ricorrente nella produzione lirica precedente a Petrarca è un tema di produzione lirica dalla quale Petrarca sicuramente ha estrapolato alcuni degli aspetti essenziali soprattutto dal punto di vista degli stereotipi e delle immagini rappresentative ma rispetto alla tradizione precedente Petrarca compie una significativa evoluzione andiamo a vedere quali sono gli elementi tradizionali e quali quelli invece di novità assoluta in apparenza il tema dell'amore infatti è trattato secondo i modi tipici della tradizione stilovista e della tradizione cortese la figura della donna è stilizzata i suoi tratti non appaiono mai pienamente riconoscibili vedremo che di Laura si dice che è bionda che ha un viso molto delicato si dice che ha un portamento altero ed austero si parla dei suoi capelli neri scusate, dei suoi occhi neri si parla delle sue mani si parla dei suoi piedi si parla del suo seno ma se ne parla a pezzi mai in maniera unitaria mai in maniera complessiva noi non siamo in grado oggi di rappresentarci effettivamente l'immagine di Laura di Laura abbiamo dettagli che riguardano aspetti peculiari della sua immagine ma non abbiamo un'immagine complessiva unitaria l'amore inoltre è presentato come un'esperienza sicuramente totalizzante che permea la vita del poeta quasi nei termini di una costruzione ideale esemplare che segue determinati codici e quindi in qualche modo sfuma e sbiadisce la realtà inoltre la rappresentazione dell'amore manca di concretezza realistica la situazione e gli episodi in cui si articola questa vicenda amorosa con Laura quindi le apparizioni di Laura i saluti gli sguardi negati oppure gli sguardi concessi gli smarrimenti del poeta i sogni del poeta le fantasie nonché le passeggiate solitari le notti insonni i pianti le lacrime tutto questo sembrano situazioni codificate dalla lirica amorosa sembrano in qualche modo una vaga sequenza di situazioni stereotipate però se noi andiamo a vedere più in profondità notiamo che ci sono dei veri e propri cambiamenti totali rispetto a quella che è la tradizione lirica precedente in primo luogo Laura per quanto stilizzata ha però una sua personalità una personalità ben delineata e lontana dal modello astratto e sovrumano della donna angelicata oppure della donna angelo ha una personalità definita che si costruisce sia sulle notizie biografiche e anagrafiche che ci fornisce il poeta sia sugli stati d'animo personali di Laura Laura si può permettere di essere arrabbiata Laura si può permettere di essere adombrata felice di ridere ma Laura è anche quella che rifiuta l'amore del poeta in ragione di concezioni morali e ideologiche precise quindi per quanto stilizzata la figura di Laura è una figura che appartiene decisamente di più al mondo dell'esperienza è una donna molto più vicina alla realtà in secondo luogo l'amore per Laura è ben lontano dal produrre un effetto di elevazione spirituale valga il confronto in questo senso con la vita nuova di Dante come nella vita nuova infatti anche nel canzoniere Laura muore e muore di una morte necessaria ai fini dello sviluppo della vicenda esistenziale del poeta però se nella vita nuova l'amore per Beatrice è sempre un'esperienza positiva che porta il poeta a superare la dimensione dell'amore terreno per condurlo all'elevazione spirituale per Petrarca invece non è così perché l'amore per Laura diventa un'esperienza contraddittoria che demarca la distanza tra l'amore disinteressato e spirituale e l'attrazione invece per qualcosa di fortemente terreno l'amore per Laura diventa un'occasione permanente di tensione e di dissidio e di lotta interiore perché il poeta si sente costantemente chiamato a combatterlo a combattere la tentazione di subordinare la dimensione celeste alla passione terrena per Laura in terzo luogo come abbiamo detto dell'esperienza amorosa Petrarca mette in rilevo soprattutto le ricadute che questa esperienza amorosa hanno avuto sull'io lirico che resta il reale protagonista della produzione poetica con i suoi cedimenti con le sue inversioni con le sue esaltazioni con i momenti di crollo alla soggettività tutto sommato unitaria e lineare della tradizione precedente Petrarca oppone invece una soggettività ben diversa perché è una soggettività frantumata che cerca di ricomporre i frammenti attraverso gli strumenti dell'autoanalisi e gli strumenti dell'introspezione con questo passaggio Petrarca prende atto della fine della funzione sociale dell'arte con Petrarca ha inizio il tentativo di istituzionalizzare il genere lirico su nuovi valori che sono valori individualistici e separati che non sono valori funzionali alla corte oppure alla politica e infine ricordiamo che Petrarca riconosce e ammette a differenza dei suoi predecessori il portato erotico della propria passione per Laura e ne sente evidentemente anche il contrasto con la morale religiosa che invece vorrebbe incarnare ma questo riconoscimento del portato erotico costituisce sicuramente un elemento di novità nell'ambito della tradizione lirica dell'epoca abbiamo parlato di Laura ma chi è Laura? chi è questa figura che campeggia nel canzoniere e che sin da subito si presenta come creatura inafferrabile ed evanescente anche nella rappresentazione fisica l'abbiamo detto Petrarca tende a rifugere dal descriverla per intero e la descrive invece per frammenti sparsi come se le sue parti corporee dovessero servire a rappresentarcela nella sua interezza come se le sue parti corporee stessero appunto per il tutto le sue parti corporee svolgono la funzione di sineddo che è per intero di questa figura oppure la rappresenta attraverso figure del mito come Daphne come Narciso che rimandano all'idea sempre di perdita di assenza di questa donna amata beh chi è questa Laura? ora sull'identità di Laura la critica si è lungamente dibattuta e si è lungamente identificata sulla identificazione di Laura nell'interpretazione storica infatti che sembra alimentata dallo stesso poeta nelle sue epistole quando ribadisce con insistenza l'esistenza fisica della donna amata e ce ne fornisce diverse diverse informazioni beh i critici hanno reputato che andasse identificata con Laura Danoves moglie di Ugo De Sade le cui vicende biografiche sembrerebbero grosso modo collimare con i dati e le informazioni che ricaviamo da Petrarca e inoltre pare che lo stesso pittore Simone Martini avesse confezionato un ritratto della donna un ritratto ad Amignone su commissione dello stesso poeta che era un suo grande amico bene se dovessimo dare un'interpretazione storica di questa figura essa andrebbe con tutta probabilità identificata con Laura Danoves appunto moglie di Ugo De Sade però va detto anche che secondo alcuni Laura altro non sarebbe che la trasfigurazione in chiave lirica della laurea poetica ovvero una vera e propria rilettura del mito della gloria letteraria e a conferma di questa lettura in chiave simbolica di Laura della donna amata da Petrarca giocherebbe anche il fatto che nella prima parte del canzoniere il suo nome non ricorre mai se non verso la fine della prima sezione ma questo nome pur non ricorrendo mai riecheggia sempre e riecheggia soprattutto in immagini e suoni sostitutivi che vengono così a svolgere una vera e propria funzione di segnal ora questa interpretazione simbolica della figura di Laura è stata portata recentemente alle estreme conseguenze proprio dal critico Giuseppe Bilanovic il quale ha sostenuto che Laura altro non è che la fiabba maggiore elaborata dal grande mitografo Petrarca quando diciamo che Laura ricorre ricorre nel canzoniere anche quando non viene direttamente citata attraverso le immagini e i suoni sostitutivi ovvero i segnal che la richiamano noi facciamo riferimento a tutta una serie di utilizzi della lingua allusivi della lingua che ne fa il Petrarca ognuna ognuno di questi usi allusivi evoca infatti una pluralità di significati simbolici che vengono associati alla donna per esempio Laura ricorre come Lauro come riferimento all'alloro poetico e quindi alla poesia alla gloria dell'alloro poetico ma Laura ricorre anche come Lauro ovvero come l'oro dei capelli che hanno irretito il poeta è come simbolo di quelle ricchezze terrene che tengono il poeta stretto nella morsa della realtà impedendone l'elevazione spirituale ma Laura ricorre anche come Laura cioè come l'aria che è contemporaneamente volubile effimera ma portatrice di vita vitale indispensabile per la vita e Laura ricorre come l'aurora ovvero come l'inizio come portatrice di speranza portatrice di luce e portatrice di novità ora questa figura di Laura subisce in realtà un'evoluzione all'interno del libro lirico tanto per cominciare nella prima parte del libro lirico quella destinata alle rime in vita di Madonna Laura che occupa come abbiamo detto le prime 263 liriche e che è introdotta dal sonetto prognale il poeta descrive Laura come una figura altezzosa indifferente all'amore una figura di per sé irraggiungibile questa prima parte del canzoniere che è introdotta dal sonetto premiale è una parte nella quale il poeta presenta la propria opera come frutto di una prolungata illusione d'amore e vi invito a sottolineare la parola illusione perché l'amore del poeta non è mai stato ricambiato i temi che vengono sviluppati in questa prima parte sono temi legati all'amore per Laura a questa scissione dell'io del poeta dimediato tra l'amore terreno per questa creatura la consapevolezza dell'impossibilità di questo amore terreno e la consapevolezza della trasgressione legata a questo amore terreno ma ci sono anche elementi che richiamano all'amicizia allo scorrere del tempo al recupero nella memoria dell'immagine di Laura oltre che temi politici ed extravaganti con la canzone 264 ha inizio invece la seconda parte quella destinata alle rime in morte di Madonna Laura e in questa seconda parte i temi sono diversi tanto per cominciare scompaiono tutti i temi che non sono legati strettamente alla vicenda dell'amore e alla vicenda appunto esistenziale del poeta i temi prevalenti sono quelli legati alla morte alla trasfigurazione di Laura all'assenza al recupero di ciò che è assente a partire dal tessuto della memoria che diventa campo di indagine campo di ricerca che diventa luogo di recupero il pentimento e la conversione in questa seconda parte Laura acquista tratti diversi diventa nel ricordo del poeta più affettuosa più compassionevole e anche il rifiuto di Laura viene riletto in una chiave diversa in una chiave cristiana quindi in qualche modo il rifiuto di Laura è diventato uno strumento attraverso cui il poeta ha potuto sperare nella salvezza salvezza che però viene comunque affidata alla Vergine nella canzone conclusiva del canzoniere nella quale appunto il poeta chiede alla Vergine di intercedere per ottenere la misericordia divina un altro tema ricorrente nel canzoniere è il tema del tempo che è strettamente connesso a quello della memoria e a quello della morte il tema del tempo quello della memoria quello della morte attraversano l'intero canzoniere tutto nel canzoniere è esposto all'azione corrosiva del tempo che trasforma inesorabilmente ogni cosa dalle grandi vicende della storia a quelli che sono invece i sentimenti tutti umani dell'amore e tutto il canzoniere oscilla su diversi piani temporali il passato il passato che è il tempo dell'amore per Laura rievocato attraverso i segni della sua presenza nel paesaggio e attraverso la memoria il presente che è il presente della consapevolezza il presente della mutazio animi nonché il futuro che è invece il luogo della speranza della speranza di ricomporre il conflitto interiore e di ricomporre i frammenti sparsi dell'anima del poeta ora la riflessione intorno al tempo ha in Petrarca una duplice matrice una matrice che al contempo classica e cristiana dal mondo classico ha recuperato attraverso Seneca il concetto del valore relativo del tempo e della propensione umana a disperderlo il tempo in valore assoluto perde nella dimensione della coscienza individuale la sua capacità di essere appunto di essere assoluto e acquista un valore relativo che è strettamente legato alla capacità dell'uomo di dargli significato e di farne frutto dalla dimensione invece cristiana attraverso Sant'Agostino recupera l'idea del tempo come durata tempo come durata non misurabile in sé ma in funzione dei mutamenti che esso è in grado di produrre nell'animo umano sempre a Sant'Agostino Petrarca deve anche l'idea dell'interiorizzazione del tempo che induce a valorizzare al massimo l'esperienza soggettiva ma il tema del tempo è per forza connesso al tema della caducità al tema dell'assenza al tema della lontananza nel presente dell'io lirico il poeta sperimenta l'assenza la mancanza della donna amata così come il progressivo disfacimento di ciò che lo circonda l'unico baluardo a difesa del proprio mondo etico ed estetico è la rievocazione dell'altro ma non in quanto percezione reale bensì in quanto fantasma interiore ovvero la valorizzazione della memoria la valorizzazione è un tema centrale in petrarca si esprime attraverso due forme attraverso la memoria di ciò che è lontano nel tempo e attraverso la memoria di ciò che è distante nello spazio se noi ci pensiamo la seconda tipologia la distanza nello spazio che attraverso la memoria permette di essere accorciata in realtà non è qualcosa di nuovo perché è stata già sperimentata dai promenziali che parlavano di amore da lontano ma in petrarca assume un valore nuovo perché il rapporto con la donna che non può essere vissuto nella vita reale si costruisce proprio nella proiezione fantastica della coscienza ovvero si costruisce nella coscienza attraverso il recupero dei tratti della donna nella memoria è una rielaborazione in chiave fantastica la memoria diventa uno strumento insieme alla scrittura per far rivivere il passato assestando il corso inesorabile del tempo ma anche riscrivendolo e adattandolo secondo il desiderio un ultimo tema che vale la pena di affrontare tra quelli che vengono esaminati da petrarca nel canzoniere è il tema della politica che benché non prevalente è presente nel canzoniere infatti nei suoi versi petrarca dà voce all'indignazione per la corruzione della corte papale per esempio nei sonetti avignonesi guarda con nostalgia a Roma come centro della cristianità e dell'impero e spera nel riscatto dell'Italia con il superamento di quelli che sono i conflitti che animano appunto il territorio nazionale italiano si ricorda il ciclo delle cosiddette canzoni politiche tre sono le canzoni politiche presenti nel canzoniere di petrarca la ventotto ho aspettato in cella beata e bella la cinquantatré spirto gentil che quelle membra regi e la più famosa la cento ventotto che è quella destinata appunto al tema della dell'Italia una canzone che noi leggeremo e che è una canzone che ha fortemente inciso su tutta la lirica politica successiva attraverso questa canzone il messaggio di petrarca è passato per esempio a Niccolò Machiavelli che utilizzerà le parole di questa canzone a chiusura del proprio principe ma è pervenuta anche in tempi più recenti nella canzone all'Italia per esempio di Leopardi ora va detto che il tema amoroso e il tema politico sono strettamente collegati in petrarca perché di fatto petrarca vede nella dissoluzione politica non altro che una manifestazione esteriore di quello che è il suo conflitto interiore riuscendo in qualche modo a compiere una compenetrazione profonda tra il dolore privato e quello che invece è il dolore civile pubblico ma il tema politico è strettamente connesso anche con quello religioso perché la degenerazione della vita politica degli stati italiani e quella dei costumi ecclesiastici rappresentano per Petrarca di fatto le due facce di una stessa medaglia di una medesima crisi inoltre per Petrarca è entrato in crisi lo stesso senso di continuità con la purezza del primo cristianesimo e anche quel senso di continuità con i valori della prima civiltà classica e proprio alla luce di questa crisi che lui si colloca in una dimensione che abbiamo definito umanistica in una dimensione di recupero dell'eredità dei classici che è diversa rispetto a quella che era stata avviata durante l'epoca appunto di Dante abbiamo finito di parlare dei temi prevalenti del canzoniere e facciamo due notazioni relative alla lingua e allo stile del canzoniere perché? perché come abbiamo detto la lingua e lo stile del canzoniere rappresentano sicuramente uno dei tratti più importanti dell'eredità di Petrarca si parla appunto si parlerà di petrarchismo si parlerà di petrarchismo per indicare una particolare forma di indirizzo che ha assunto la poesia all'indomani delle all'indomani appunto della produzione di Petrarca Petrarca ha operato delle selezioni ma allo stesso tempo delle scelte che hanno condizionato tutta la tradizione lirica successiva e questo in diversi ambiti tanto per cominciare ha selezionato e regolarizzato le forme metriche che pur erano già presenti per esempio le forme metriche peraltro che lui ha selezionato sarebbero rimaste come caratteristiche di tutta la lirica successiva per esempio per quanto riguarda il sonetto ne ha fatta la forma privilegiata del genere lirico basti pensare che i sonetti costituiscono la maggior parte della produzione presente all'interno del canzoniere 317 sono i sonetti su 366 composizioni complessive e la maggioranza di questi sonetti 303 su 317 presenta lo schema metrico ABBA per le quartine mentre più vario risulta il modulo della terzina anche la canzone è stata regolarizzata da Petrarca sia nella sua struttura attraverso l'adozione di un numero fisso di strofe che oscilla da 5 a 7 sia nella scelta di aumentare il numero di settenari rispetto a quanto era stato teorizzato da Dante nel De Vulgari Eloquenzia il numero dei settenari infatti aumenta significativamente Dante aveva teorizzato il ricorso a un numero molto ridotto di settenari Petrarca li aumenta notevolmente perché reputa il settenario più adatto ad esprimere lo sviluppo appunto concettuale che intende dare alla canzone grandi e importanti sono state le innovazioni di Petrarca anche dal punto di vista strettamente linguistico e stilistico si parla di monostilismo ovvero di unilinguismo e questa definizione è stata data da Gianfranco Contini un grandissimo studioso e filologo che ha definito lo stile e la lingua di Petrarca proprio confrontandole con quelle di Dante Alighieri aveva parlato a proposito di Dante Alighieri di plurilinguismo e di pluristilismo perché Dante Alighieri si era messo in evidenza per l'uso di lingue diverse latino e volgare ma soprattutto per la compresenza all'interno di un medesimo testo di stili tragico comico elegiaco e di registri alto medio basso diversi questa compresenza di stili e registri stilistici in Dante era espressione era l'esito di un incessante sperimentalismo linguistico nonché di una continua riflessione teorica sulla lingua con Petrarca le cose sono molto diverse perché con Petrarca si viene a concretizzare la tendenza ad uno stile medio che si riflette in un'accurata selezione lessicale e in un equilibrato lavoro di adeguamento stilistico non c'è interesse in Petrarca per la teorizzazione linguistica di contro c'è un approfondimento in senso etico e intimistico delle scelte linguistiche al pari lo sperimentalismo di Petrarca è meno visibile rispetto a quello di Dante ed è orientato alla ricerca di una perfezione formale più che di una pregnanza tra oggetto rappresentato e termine utilizzato per rappresentarlo quando parliamo di questo monostilismo ovvero di questo unilinguismo petrarchesco facciamo riferimento al lessico Petrarca ho però un'accurata selezione di vocaboli in Petrarca abbiamo un totale di 3275 parole che però acquistarono estrema mobilità sul piano semantico grazie al ricorso agli strumenti della polisemia in altri termini Petrarca ha sfruttato tutte le potenzialità delle parole sfumandone il significato in funzione del contesto anche le parole più concrete per esempio quelle che rimandavano a elementi del mondo animale o vegetale sono state sottoposte ad un processo di rarefazione ovvero sono state svuotate dei loro significati troppo espliciti e troppo materiali oppure di trasformazione metaforica ciò consentiva a Petrarca anche di recuperare il linguaggio aspro di matrice dantesca però rivitalizzandolo in un contesto che ne attutiva la carica espressiva dal punto di vista sintattico in Petrarca prevale la paratassi le cui sequenze sono legate tra di loro da espedienti retorici come l'anafora e come il ricorso all'enjambement che consentiva di distendere e di rallentare il ritmo un'ultima valenza sicuramente quella legata appunto all'uso retorico in Petrarca dominano figure retoriche come l'antitesi che è funzionale proprio ad esprimere questo dissidio interiore ma anche le dittologie e i chiasmi che sono figure di posizione figure sintattiche utili a rappresentare un ampio ondeggiamento tra poli opposti inoltre sempre in Petrarca assume un ruolo chiave la figura dell'accumulazione spesso per asindeto decisamente molto più spesso per polisindeto Petrarca dà un'importanza notevole al verso finale perché al verso finale attribuisce la funzione di farsi portatore del significato complessivo del componimento bene queste sono le informazioni che ovviamente non hanno carattere di esaustività relative al canzoniere di Petrarca spero che la video lezione sia stata di vostro gradimento che vi abbia interessato che l'abbiate trovata chiara se ci dovessero essere delle domande a riguardo resto a vostra disposizione attraverso tutti i canali di cui disponiamo vi auguro una buona giornata e un buono studio arrivederci ragazzi qui Grazie.